dopo la mia esibizione c'era la cosiddetta foto di Rito vicino alla parte in basso del palco quindi un po' più avanti insieme al presentatore che tra l'altro se non mi sbaglio all'epoca era proprio il doppiatore di Sheldon Cooper Leonardo Graziano sì esatto anche di Danuto non si ricorderà mai di me però poverino gli sono letteralmente caduta addosso mi ha dovuto chiappare perché sennò io sarei caduta di sotto al palco perché per poter fare la foto mi hanno chiesto di avvicinarmi e ho dovuto saltellare tipo coniglietto un po' più avanti e stavo cadendo in avanti quindi sarebbe stato estremamente divertente